Salve a tutti, sono Gianluca Landi e voglio rispondere a oggi a una domanda molto importante che in tanti mi fanno. È meglio la quota start o la quota pre-match o kick-off? Per mia esperienza è meglio la quota kick-off, quindi la quota finale, la quota pre-match, cioè la quota qualche minuto dopo che è iniziata la partita. Perché? Perché, tanto vediamo che cos'è la quota start. La quota start è la quota che viene fatta dai software dei bookmaker. Adesso rimangono circa pochissimi bookmaker che hanno il loro software. Il principale, come tutti sapete, è Pinnacle, che è il bookmaker con i software migliori che fa il riferimento per tutti. Poi c'è William Hill e c'è Beta365, quindi questi sono i software, tra virgolette, migliori. Le quote vengono fatte una settimana, dieci giorni, tre settimane, a volte un mese prima dell'inizio della partita stessa. Poi ovviamente dipende dal campionato, dipende da tanti fattori, però diciamo che la quota viene fatta dalla settimana a un mese prima dell'inizio. All'interno del software i bookmaker mettono tutta una serie di parametri. I risultati storici, eventualmente gli scontri testa a testa, lo stato di forma, se manca più un giocatore, l'importanza della partita, lo stadio, come è grande il campo da calcio, se è regolamentare, se è più grande, se è più piccolo, dove si trova lo stadio, il mezzo perché la squadra che gioca in trasferta raggiunga il campo, quindi se lo raggiunge in aero, lo raggiunge in autobus o in macchina, anche questo cambia il valore della quota. E mettono all'interno tutti i parametri. Poi c'è il quotista, che ha esperienza in questo settore, mette il profitto del bookmaker e aggiusta la quota, a volte per fare le cosiddette quote trappola, cioè per fare abbassare notevolmente la quota, per far credere che quella sia la favorita, quando invece non la è. Una volta che tutto è stato fatto, la quota viene messa all'interno del mercato. Questa è la quota start. Poi cosa succede? Succede che man mano che passa il tempo, incominciano ad arrivare le puntate su queste determinate squadre, determinate quote, e la quota tenderà ad alzarsi o a alzarsi in base alle puntate che arrivano sui vari bookmaker. Perché il bookmaker cosa fa? Più arriva una quota, più arrivano puntate importanti su una quota e più il bookmaker va a abbassare la quota stessa. Questo ovviamente nella stragrande maggioranza, diciamo, dei casi. Poi ci sono dei casi che i bookmaker vanno all'opposto, ma lì per altri motivi prendiamo noi un caso normale. Quindi la quota scende. Cosa può succedere? Può succedere che vengono delle notizie che un determinato giocatore non gioca, che la squadra ha degli infortunati, oppure ci sono delle notizie particolari sulla squadra. E poi, soprattutto, se sono campionati secondari, può essere quella partita aggiustata. Quindi chi ha informazioni incomincia a puntare pesantemente in una determinata direzione. I bookmaker hanno dei software particolari, Sportaradar e altri, e sono in contatto e vedono cosa fa un bookmaker. Se incominciano a vedere che determinati bookmaker abbassano le quote, gli altri bookmaker tendono ad andarci dietro. E quindi la quota tende, per esempio, a scendere o a salire in base a queste condizioni. Poi arriviamo al ridosso dell'inizio della partita. Negli ultimi 15 minuti sui mercati asiatici si possono fare puntate senza limiti. Ovviamente sul bookmaker accetta la scommessa. E di conseguenza, negli ultimi 15 minuti, chi ha informazioni importanti, oppure chi ha parrocato la partita, va a giocare in porti importanti sui bookmaker asiatici. E da lì che la quota si muove ancora di più. Quindi, per mia esperienza, ha molto più fede la quota finale. La quota kick-off. La quota prima appena iniziato il match. Diciamo 2-3 minuti dopo, perché c'è la quota di chiusura. L'ideale sarebbe vederla 5 minuti dopo. Però già se la vedete gli ultimi 5-10 minuti, incomincia a essere già una quota che ha significato. E da lì io la prendo come riferimento. Ovviamente, poi, non è che quello fa fede totale. Ci sono tante partite. Alla fine, non so, prima che inizi la partita, negli ultimi 10 minuti, va in una direzione, scende notevolmente alla squadra 1 e poi vince la squadra che gioca in trasferta. Ovviamente, quello non fa fede assoluta, però ci dà delle grandissime indicazioni. Prima dobbiamo analizzare la partita facendo un'analisi qualitativa. Quindi, andando a studiare le statistiche, le statistiche premie, c'è tutta una serie di cose. Poi la quota è quella che ci dà lo spunto finale e ci può fare o prendere la decisione finale di andare in quella direzione, oppure abbandonare quella squadra perché la quota va contro quello che noi abbiamo studiato e quindi possiamo decidere di lasciarla stare o di seguirla live. Andiamo un secondo a vedere, per esempio, queste quote. Allora, prendo come riferimento ScoreTrend, il mio sito, perché qui sopra ho messo a giusto appunto le quote. Vedete, sul pannello, sopra il pannello di ogni, di sotto, diciamo, le due squadre che giocano e sopra il grafico, c'è la quota Start e la quota Prematch. La quota Start è la quota di partenza, in questo caso Bet365. A breve poi metteremo anche Pinnacle. Questa è la quota Start, quella fatta dal software di Bet365. Poi, come vedete, abbiamo messo sopra la quota Prematch. Quindi la quota Prematch, siccome questa partita è già stata giocata, sarà la quota 3-4 minuti dopo che la partita è iniziata. Vedete, in questo caso, la quota Start era 2,10, è scesa a 1,85. Noi mettiamo il pallino verde di discesa, perché, diciamo, per noi è positivo, perché se la quota Start era 2,10, è scesa a 1,85, quindi ci sono delle indicazioni su quella direzione, quindi è buono, tra virgolette, se l'abbiamo studiata prima, per andarla a puntare. E quindi abbiamo messo la discesa verde, il pallino verde, che fa vedere la freccetta verde che scende. E l'altra sale. Quindi, in questo caso, vedete che la quota da 2,10 è andata a 1,85. Poi, il Crystal Palace ha vinto, vedete, 3-2. Ripeto, non è che questa che fa fede assoluta, perché poi possiamo andare a vedere anche gli spread asiatici, però già questa, vedete, ci dà un'indicazione. Prendiamo un'altra. Questa è Liverpool, Aston Villa, vedete, da 1,57 è andata a 1,60. È salita leggermente. Ovviamente questa non fa fede, perché questa variazione minima, ma minima, la quota del 2 è rimasta la stessa, vedete, per me non fa fede, perché è come se fosse la stessa. Comunque, vedete, Liverpool, c'era una stretta correlazione tra la quota start e la quota pre-match. Arsenal, 1,75 è rimasta la quota di start uguale alla quota pre-match e, vedete, 3-1 è andato l'Arsenal. Poi, vedete qua, nel mercato dell'underover è passato da 3, tra i 25 sono stati 4 gol. Adesso, prendiamone altre a caso. Vedete, in questo caso, invece, ecco, guardate, da 1,83 la quota dell'1 è salita a 2,15. Vedete, il pareggio è sceso e la partita è finita 1-1. Vediamo che ci sono poi dei casi che invece saranno opposti. Comunque, guardate, anche in questo caso, 3,30 è salita tra i 50, la quota dell'Ipsha è scesa, vedete, da 2,25 a 2,05 e questo è stato 0,3. E' salita anche, vedete, da 2,5 a 2,75 la quota dell'over. Come vedete, ci dà delle indicazioni, per me, migliori. Ripeto, va sempre studiata, poi siamo all'inizio del campionato di questi, quindi vanno prese molta, con molta più cautela. Andiamo a vedere il campionato italiano, cosa è successo. Inter, da 1,66 è andata a 1,70. Ripeto, è la stessa cosa, siamo lì, è cambiata di pochissimi ticche. L'Inter ha vinto 4-0. Torino a Genova, ecco, vedete, da 1,66 è andata a 2,05, la quota, quindi è salita, andava contro il Torino, il pareggio è sceso, come sapete, a cui hanno fatto gol negli ultimi minuti. Andiamo a vedere, Empoli-Juventus, la quota della Juve, vedete, 1,66, 1,65 è rimasta la stessa, 2-0, l'over è rimasto lo stesso. Lecce-Salernitana, 1,90, 1,95 è scesa leggerissimamente, più o meno la stessa, e ha vinto 2-0. Cioè, avete capito l'importanza, secondo me, che è la quota pre-match rispetto alla quota start? Poi andremo a vedere dei casi che fanno l'opposto. Questa è salita, è 2-2, adesso su tutti i casi favorevoli, volevo vedere, ecco, questo da 1,60 è andata a 1,90, il Lille ha fatto gol subito, è rimasto la partita così, 1-0. Comunque, vedete, il mercato under-over è sceso da 3, è passata a 2,75, la partita è rimasta 1-0. In questo caso è scesa leggermente, ha vinto 3-0, vogliamo vedere, ecco, in questo caso, vedete anche qui, poteva essere un segnale, 3,40 è andata a 4,50, il Rem da 2,10 è andata a 1,75, la partita poi è finita 2-2. Il Lione, e vedete, il Lione sta facendo molto, molto male, guardate, da 3,80, probabilmente non ha quota di un po' di tempo fa, il Lione le ultime partite le ha perse, le ha perse, diciamo, tutte, da 3,80 è salita a 5,25, vedete, e il PSG da 1,83 a 1,60. Vedete come, secondo me, la quota di, diciamo, pre-match è nettamente, nettamente migliore rispetto a quella start. Sempre, ripeto, facendo degli studi. Quindi, mi auguro che abbiate capito che cos'è la quota start e la quota pre-match. Quota start è la quota fatta dai software dei bookmaker, nel caso di score trend è quella di beta 365, poi a breve ci metteremo anche la data in cui è stata fatta, quindi vedete la data di partenza, quando, e potete fare le vostre valutazioni, perché un conto che la quota è stata fatta una settimana fa, un conto che la quota è stata fatta un mese fa, e quindi ovviamente in quelle due settimane, tre settimane, cambiano i risultati, facevo il caso del Lione, diciamo, ultimamente sta facendo male, e quindi, come vedete, la quota ne risente tantissimo, la quota pre-match si è alzata notevolmente, ripeto, rispetto a quella di partenza. È fondamentale, ripeto, prima che voi decidete qualsiasi strategia da fare di betting exchange, o di betting tradizionale, prima ve la studiate e poi andate a vedere le quote. Se le quote non sono di valore, sono quote che, secondo voi, non hanno senso rispetto allo studio della partita, conviene non fare quella partita e passare ad altro, anche perché le occasioni sul mercato ci sono sempre. Vi invito a schiacciare la campanella, aggiungermi tra i preferiti del mio canale, a breve farò tantissimi altri video molto interessanti e tirerò fuori delle cose molto utili a voi per fare in modo di aiutarvi sempre di più ad entrare in questo mondo e farne, eventualmente, se lo vorrete, una professione. La professione dello sport trader è la professione, secondo me, tra le più belle, perché vi permette di lavorare quando volete ed essere a contatto con il vostro sport preferito, almeno me lo auguro, il calcio, il tennis e quello che voi sceglierete. Ciao a tutti, da Gianluca Landi.